E' Marco Pannella l'ultimo big ad atterrare a Gorizia in chiusura di campagna elettorale. Il leader storico dei radicali italiani porta il suo appoggio a Pietro Pipi, difensore dei diritti civili nel capoluogo isontino e dal candidato sindaco Fabrizio Manganelli, l'imprenditore con una formazione politica e suo nome collegata alle liste civiche della rete denominata Un'altra Regione. Nelle parole di Pannella lo sprone a proseguire nel solco libertario tracciato molti anni orsono dal friulano Loris Fortuna.